Anche quest'anno la Valle del Savuto ospita una nuova edizione del festival di street art Gulia Urbana, promosso dall'associazione Rublanum. La nona edizione vede come scenario l'ormai fedelissimo comune di parenti, che da quattro anni sviluppa sempre più nuovi spazi per le opere di artisti nazionali e internazionali, e il comune di Cellara la sua prima collaborazione con il progetto. Protagonisti dell'evento sono artisti fedelissimi da anni al Gulia Urbana come Toni Gallo, street artist padovano che è già donato sulle pareti del piccolo paese della Sila Cosentina, una poetica opera lo scorso anno. C'è poi la britannica Ellen Barr, nuova alla territoria della Calabria, ma già conosciuta per la collaborazione di novembre all'evento WK, realizzato a Latina dal centro antiviolenza Donna Lilith con la partecipazione di Rublanum. E poi il già conosciuto Dimitris Taxis, artista greco che torna dopo un anno dal suo intervento a Mangone. Mentre a Cellara, il secondo paese che ha deciso di cimentarsi in questo percorso di rivalutazione degli spazi urbani, ha ospitato Brocrio, fedelissimo collettivo dell'evento Gulia Urbana, formato da Mario Verte e Amaele Serino. Hanno dato il loro contributo anche altri artisti del settore, come Claudio Chiaraballoti, in arte morne, e lo spagnolo Slim Safont, giovanissimo artista già conosciuto nel panorama internazionale della street art.